Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il tempo sulle nostre regioni cambierà poiché l'alta pressione mostrerà i primi cenni di cedimento anche sul meridione. Ciò a causa della perturbazione atlantica che dopo aver interessato il nord Italia nella giornata odierna scorrerà velocemente lungo tutto lo stivale, giungendo a metà giornata sul sud Italia. Il peggioramento sarà accompagnato dalle prime precipitazioni, vento in rinforzo e temperature in calo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni. Per sabato 20 maggio. Al mattino cieli sereni sul Salento, altrove da nuvolosi a poco nuvolosi. Durante le prime ore del pomeriggio aumento della nuvolosità sulla Puglia centro-settentrionale con possibili brevi rovesci e o temporali localizzati tra Barese e Foggiano. Meglio sui settori lucani. In serata insisteranno dei rovesci sul Foggiano e Barese con coinvolgimento anche del blindisino e potentino. Maggiori schiarite sul resto della Basilicata e sul Salento. Temperature che risulteranno in calo a partire dal pomeriggio su buona parte delle regioni. Venti inizialmente deboli dal pomeriggio si disporranno da Ponente con locali rinforzi sulla Basilicata e sulle zone interne pugliesi. Mari poco mosso l'Adriatico, mosso lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo per questo straordinario spettacolo visibile da Santa Cesarea Terme in direzione dei Monti Albanesi. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.